baschettari in penitencio semplici nuovi appassionati bentornati ad in the paint qui sui canali di per sempre news per parlarvi del basket italiano europeo e internazionale una puntata che però è piena anche di sorprese cominciamo dall'eurolega dove la virtus segafredo bologna ha vinto sul parquet del guessa arena ai danni del basconia basconia che veniva da sette vittorie nelle ultime otto partite 81 a 91 il finale diamo i risultati di ieri stella rossa belgrado alba berlino 85 71 dalghiri scaunas partizan belgrado 85 93 maccabi telaviv anadolu fs istambul 95 86 basconia virtus segafredo bologna 81 91 real madrid bayern monaco 88 73 nel ritorno per la prima volta l'avversario di pablo laso al will think center 81 89 invece il finale tra video urbana e panatinaicos con tanto di sfuriata tra virgolette di coach giammarco pozzecco ai microfoni dell'eurolega dove ho detto non c'è niente da dire per favore non fatemi domande è andato ai microfoni perché ciò che era regolamentare e poi è andato via senza rilasciare ulteriori dichiarazioni oggi invece in programma altre tre gare relative al quattordicesimo turno di se regular season per erbace monaco alle 18 e 45 alle 20 e 15 olimpia costa pireo valencia basket alle 20 e 30 invece la sfida la big match tra barcellona e emporio armani milano andiamo invece a vedere la classifica attualmente con il real madrid in testa con una sola sconfitta in quattordici gare dieci vittorie e tre sconfitte per il barcellona dieci vittorie e quattro sconfitte una gara in più per la virtus segafredo bologna o meglio con una gara in meno che ne ha giocate 13 fino adesso così come il monaco otto vittorie e cinque sconfitte quinto posto invece per il partizan belgrado otto vittorie e sei sconfitte così come il basconia che è sesto con il settimo posto prima squadra dei play in il maccabi telaviv otto vittorie e sei sconfitte a sette vittorie e sette sconfitte e sei sconfitte invece troviamo olimpia costa e valencia basket al decimo posto ultimo valido per il play in il panatinaikos sette vittorie e sette sconfitte altrettante altrettante le vittorie e le sconfitte della nadole uefes sei vittorie e sette sconfitte invece per il fenerbahce sei vittorie otto sconfitte per il baier monaco cinque vittorie e nove sconfitte per stella rossa e dal gris caonas quattro vittorie e nove sconfitte per le a sette empore ormani milano due vittorie 12 sconfitte invece per il duo di coda sbili urbano e alba berlino parliamo però di queste novità perché dal da pochi giorni da due giorni è ufficiale il cambio nella panchina sulla panchina della penerbace con saras jasichevicius che il nuovo allenatore che sostituisce dimitris e tudis una notizia che era un fulminaccio sereno visto che le voci per molto tempo sembravano indicare andrea trinchieri come nuovo allenatore giallo blu e invece la scelta è ricaduta sull'ex allenatore di zalgiri scaonas e barcellona tra l'altro con il dubbio su quella che sarà l'accettazione dalla parte dello spogliatoio spogliatoio in cui ci sono vari giocatori tra cui nick calates e nigel hayes che sono andati via proprio dal barcellona quando era il coach lituano ad allenarlo altro cambio in panchina preventivato e non successo è quello però di caonas lo zalgris sembrava ormai prossimo a separarsi da cadiz max vitis comunque con una situazione abbastanza dura nelle ultime partite un record di due otto nelle ultime dieci e invece non è stato così a quanto pare per l'opposizione dello spogliatoio che è molto legato al coach che anche città nazionale lituana sembrava fatta per trinchieri e invece con un post sui social il lao zalgris ha raccolto tutte le voci per poi dire noi confermiamo la fiducia a coach casis max vitis andiamo invece a vedere quello che è successo al buese arena dove la virtus segafredo bologna spinta dai 27 punti di bellinelli riesce ad avere la meglio sui padroni di casa del basconia al basconia che vede l'ex di turno nico magnon non entrare in campo zero in minuti per lui non bastano i 16.8 rimasti di cima mone che nei 13 punti di mike cozzar negli 11 marcus aure prestazione dobbiamo dire sotto tono per il cannoniere del basconia dieci punti di codi miller mcintyre né gli undici di nikos roccavopoulos chiediamo scusa per la pronuncia andiamo invece a vedere quali sono state le cifre della virtus sega fredo bologna virtus che aveva cominciato bene aveva svoltato però la boa dell'intervallo lungo sotto di un punto ma nel finale ha messo la freccia e non è stata più ripresa dicevamo 27 punti di belinelli 16 e 6 rimbalzi di torniche scenghelia 12 per isaia cornie con anche otto rimbalzi al referto nessun altro in doppia cifra ma attenzione al ritorno di alessandro paiola dopo l'infortunio per lui 9 punti con 3 su 5 dal campo 1 su 1 ai liberi ma anche 6 assist e una palla rubata è tornato alle paiola andiamo a vedere invece quello che è successo nella gara che ha visto in campo in euro cup trento andiamo subito però con i risultati delle gare giocate mercoledì che dovevano completare il programma della dodicesima giornata promette il slovo san che batte becitta sottantanove a settanta l'inseris burgen bress batte dolomiti energia trentino settantanove a sessantasette vittoria invece per il tour telecom mancara sul parche del buducinos voli podgorica altra sconfitta per il servito olimpia lubiana di coach pianigiani su stavolta sul parche di badalona e di pochissimo ottant tre a ottantuno la sorpresa invece è la vittoria degli humble towers sul parche dei london lions ottantuno a ottant tre classifica che quindi vede adesso nel gruppo a pari basketball ancora prima con dieci vittorie in una sola sconfitta seguita da poele slomo telaviv otto vittorie due sconfitte una gara in meno così come i bc wolves di bilnius terzo posto per il london lions otto vittorie tre sconfitte quarto il becittas a sei vittorie cinque sconfitte le stesse di badalona e promette slovo san che fuori dalla zona playoff quattro vittorie s sconfitte per i bc wolves williams una partita in meno quattro vittorie sette sconfitte per l'umana reier venezia due vittorie nove sconfitte per gli humble towers zero vittorie undici sconfitte per il sede vita olimpia lubiana nel gruppo b invece è arrivata la prima sconfitta del dreamland gran canaria contro ulm dieci vittorie ed una sconfitta per i canarini nove vittorie invece due sconfitte per i minzi lisburg e brett otto vittorie tre sconfitte per più una poca era se far mulm a quattro vittorie e sette sconfitte dove troviamo un quartetto formato da aris salonico e il cabelli spane vetis che sarebbe in questo momento in zona playoff ma anche da bruci no small ipod goriz e dolmiti energia trentino in questo momento sarebbero fuori nono posto invece per il tutte le comancara tre vittorie otto sconfitte decimo per lo slask rosso una vittoria e dieci sconfitte andiamo alla gara giocata all'equinox arena di burgen brett con trento che ci prova ma non riesce troppo forte burgen brett troppo anche per una trento che è volenterosa e che resta in partita a lungo prima di doversi arrendere al maggior tasso tecnico degli avversari avversari che vedono sugli scudi la prestazione di isia isia mike con dodici punti gli stessi di zaccari risasce che aggiunge anche cinque assist dieci invece i punti per maxima salash undici quelli di mod body an amassa questi giocatori in doppia cifra ma vari giocatori anche a otto e nove punti attenzione alla prestazione in fase di rifinitura di jacquan lewis che aggiunge sei assist ai suoi quattro punti e cinque rimbalzi partita molto all round per quanto riguarda la dolomita energia trentino eroico la squadra a resistere ma pesa tanto la poca precisione al tiro sia da due che da tre non c'è quasi nessuno in doppia cifra eccetto kamar boldwin undici punti per lui partita negativissima dobbiamo dirlo ma è anche vero che questa trento rispetto allo scorso anno sta facendo vedere molte cose buone che non si erano viste prima serve anche un po di pazienza per questi passi falsi in basketball champions league invece sconfitta per la prima volta la bertram tortono ottantasette a settantacinque sul parchè del luca murcia luca murcia che però non era assolutamente sul proprio parchi un cliente facile visto che ha perso una sola volta in oltre trecento giorni incredibile a dirsi per una squadra che non è della primissima fascia della sebe migliore in campo per quanto riguarda i padroni di casa dicevamo migliori in campo per quanto riguardava i padroni di casa la ne magna radovic con dieci punti sei rimbalzi e sedici di valutazione per quanto riguarda invece tortona migliore prestazione per valutazione quella di chris daui con quattordici punti sei rimbalzi e tre assist andiamo invece in nba dove si sono disputate varie gare siamo subito sulla sul pezzo con le gare del quattordici dicembre vittoria per i boston celtics per centosegici a centosette sui eh Cleveland Cavaliers ventisette punti undici rimbalzi per Jason Tatum non bastano i trentuno punti di Donovan Mitchell che aggiunge anche sei assist ai Cleveland Cavaliers per quanto riguarda invece eh il Miami sconfitta a domicilio ad opera dei Chicago Bulls cento ventiquattro a cento sedici per quanto riguarda i Bulls miglior prestazione quella di Kobe White ventisei punti undici assist non basta invece a Miami la prestazione di Jaime Hackett Junior ventidue punti per il messicano vincono ancora e danno un record di diciotto cinque Minnesota Timberwolves stavolta a cadere sono i Dallas Mavericks cento dici a nove a cento uno a domicilio per Minnesota on the road miglior prestazione dal punto di vista realizzativo quella di Naz Raid per quanto riguarda invece Luca Doncic di trenta nove punti e tredici assist vittoria anche per i Denver Nuggets che continuano la propria progressione cento ventiquattro a cento uno contro i Brooklyn Nets tripla doppia ennesima ormai di Nicola Jokic ventisei punti quindici rimbalzi e dieci assist ai Nets non bastano i diciassette punti e otto assist di Spencer Dinguidi vittoria anche per gli Utah Jazz attenzione a questa partita perché eh il miglior realizzatore nel cento ventidue cento quattordici eh sul parquet di Portland è Colin Sexton ma abbiamo da parlare di un italiano ovvero di Simone Fontecchio per lui ventiquattro punti con cinque rimbalzi sette su otto dal campo cinque su cinque dal perimetro finalmente una prestazione da Simone Fontecchio in una Utah che sa finalmente dando fiducia a Simone Fontecchio andiamo invece a parlare delle altre gare andiamo con questa carrellata veloce vittoria per i Sacramento Kings sul parquet degli Oklahoma City Thunder anzi sul proprio parquet contro gli Oklahoma City Thunder a quali non bastano i quarantatré punti e nove assist di Shai Gilgius Alexander nella doppia doppia di Chet Holmgren Sacramento parte con The Iron Fox 41 punti per lui doppia doppia invece per Domantas Sabonis che mette insieme ben sedici rimbalzi nove invece gli assist sia per Shai Gilgius Alexander che per Malik Monk continua invece la crisi dei Golden State Warriors cento ventuno a cento tredici la sconfitta ad opera dei Los Angeles Clippers che vedono in James Harden il miglior realizzatore con ventotto punti e quindici assist attenzione perché James Harden è uno dei quattro giocatori in attività ad aver superato quota venticinque mila punti in NBA uno dei pochi iscritti a questo club ci è arrivato proprio nella nottata non bastano ai Warriors i trenta punti di Clay Thompson ma dobbiamo parlare di Golden State dobbiamo parlare di Draymond Green che è stato sospeso a tempo indefinito e potrà rientrare solo dopo un percorso di aiuto per l'ennesimo episodio violento da lui da lui messo in scena stavolta nella sfida contro i Phoenix Suns la vittima era stato Yusuf Nurkic e avevamo detto che forse era il momento di smetterla forse nel momento di capire da parte di Draymond Green che non è più il giocatore decisivo che era prima con la sua intelligenza difensiva con le sue letture e che stia diventando sempre più vittima di un personaggio brutto da vedere un personaggio che sporca l'immagine di Golden State Warriors e che sporca la sua stessa immagine ed è un peccato e forse come dicevano Elio e le storie tese meglio adesso che sei un mito da domani sarai qualcos'altro forse è finita la tua carriera de Raymond forse è il momento di appendere le scarpe al chiodo lo domandiamo tutti chiudiamo con le classifiche con la Easter Conference che è comandata ancora dai Boston Celtics 18 vittorie e 5 sconfitte seguono Milwaukee Bucks, Orlando Magic, Philadelphia Sixers, Indiana Pacers e New York Knicks nella zona playoff sicuri zona play in che invece vede Miami Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors fuori dalla postseason in questo momento Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Detroit Pistons che continuano a perdere la striscia negativa è arrivata addirittura a 21 partite per quanto riguarda la Western Conference invece ancora primi solidi primi in Minnesota Timberwolves 18 vittorie e 5 sconfitte miglior record di tutta la Lega Denver Nuggets che seguono 17 vittorie e 9 sconfitte via via in zona playoff Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Sacramento Kings e Los Angeles Lakers zona plain che invece è popolata da Los Angeles Clippers, Houston Rockets, New Orleans Pelicans e Phoenix Suns fuori in questo momento dalla postseason Golden State Warriors Utah Jazz Memphis Grizzlies Portland Trailblazers e San Antonio Spurs chiudiamo dicendo oltre che i San Antonio Spurs sono autori della seconda peggior striscia negativa in questo momento ben 18 le sconfitte consecutive con un ricordo perché oggi 15 dicembre 138 anni fa il professor James Naismith dava per la prima volta il via ad una partita di palla a canestro era il 15 dicembre del 1885 la prima palla a due della storia la partita dato curioso finì 1 a 0 forse anche perché ai tempi il canestro non era bucato sotto e quindi quando si segnava bisognava andarlo a riprendere con uno scaletto il pallone ecco forse per quello che si segnò solo una volta scherzi a parte se non fosse stata o per l'idea di Naismith oggi noi non staremmo parlando dello sport più bello del mondo è tutto per noi grazie di averci seguito ci vediamo alla prossima puntata sempre qui sempre sul parquet in the paint ciao a tutti